buongiorno e bentornati a tg2 costume società dall'occhiale che va in lavatrice a quello in onore dell'unità d'italia al mido di milano tutte le novità più interessanti e bizzarre quando l'occhiale riserva delle sorprese tipo una penna usb memoria portatile per il computer ma anche parte integrante delle astine comodamente uno prende la chiavezza la inserisce all'interno della montatura dell'occhiale può usare diciamo una come estetica quella che più preferisce sono le cosiddette stanghette a fare la differenza dal pizzo con effetto vedo non vedo e motivi baroccheggianti dall'animalier al multicolor e poi gli strassi gli occhiali gioiello si ritorna al passato con l'occhio di gatto sono tipici degli anni 50 e quindi un esempio